Voglio parlarvi di mio marito, mio marito ha 75 anni, lui è figlio unico e quando sua madre è andata all'ospizio si è sentito malissimo, ha vissuto molto molto male. Gli è partito il diabete, forse appunto a causa di questo trauma, di questo stress, usa vari medicinali, l'anno passato anche la sua pressione sanguigna è schizzata alle stelle. E i vari medicinali non gli facciano alcun effetto. A novembre abbiamo iniziato a usare i cerotti, usavamo già tanti supplementi, vitamine eccetera, quindi mio marito era veramente poco interessato a provare i cerotti. E' molto scettico perché nulla ha funzionato per lui, quindi magari usava due o tre volte a settimana i cerotti soltanto. E io ho deciso di non insistere più di tanto. Però appena ha fatto un controllo e il suo indice glicemico è sceso di 70 punti. E gli hanno tolto alcuni medicinali per la pressione sanguigna. E anche i trigliceriti e il colesterolo sono nel livello ottimale, che prima erano un pochino fuori quadro. Quindi noi siamo veramente molto felici, ringraziamo Dio e ringraziamo il dottor David, la Live Wave. Abbiamo appena iniziato. Magari quando ci incontrerete finalmente avremo 22 anni. Fantastico Beth, puoi raccontarci quali sono i cerotti che tu e tuo marito avete utilizzato perché tutta la gente è interessata a sentire questi dettagli. Andy, mio marito, X39, SP6, Ice Wave, Glutatione, Carnosine, X39 e X49, tutti insomma.